Sabato della seconda settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù entrò in una casa, e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano, infatti, E fuori di sé, commento, al Vangelo del giorno di Doluigi Maria Epicoco. Entrò in una casa, e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. La brevità del Vangelo di oggi è inversamente proporzionale all'efficacia dell'immagine. Infatti, l'immensità della gente che attorni a Gesù è così grande che si ha subito la sensazione che l'Evangelista Marco stia man mano facendo percepire che l'identità di Gesù si sta rivelando, e proprio per questo il suo seguito diventa incontenibile. Ma è interessante la notazione successiva del versetto seguente. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano, E fuori di sé. Infatti, se da una parte Gesù sta emergendo nella sua identità messianica, la difficoltà che fanno le persone che lo conoscono da tempo, soprattutto i suoi parenti, è accettare che quel ragazzo, cresciuto con loro, non è solo il figlio di Giuseppe e il falegname, ma è il figlio di Dio. Per fare un paragone con noi, dovremmo dire che molte volte di Gesù ci prendiamo gli insegnamenti, le parole, le indicazioni, ma facciamo fatica ad accettare che Egli non è solo un maestro di vita, né solo un geniale psicologo, o una fine guida spirituale, ma bensì il figlio di Dio venuto a salvarci. Tutte le cose buone che Gesù suscita possono essere catalogate in esperienze positive riscontrabili nel mondo, ma c'è una cosa che sfugge ogni catalogazione ed è la sua origine divina. E' proprio questo dettaglio che fa credere ad alcuni che sia pazzo, ma con il tempo anche loro dovranno ricredersi, accettando che l'unica pazzia di cui si può accusare Gesù ha a che fare con l'amore per ogni uomo. E' comunque bello poter pensare che, alla fine, se Gesù non ci scandalizza, ciò significa che c'è qualcosa che non va. L'esperienza della fede non è essere confermati nelle nostre aspettative, ma lasciarci stupire e mettere in crisi dal Signore che supera spesso le nostre aspettative. In questo senso, lo scandalo è la maniera ordinaria attraverso cui il Signore ci ricorda che Egli è Dio.